Ciao a tutti e benvenuti, fa abbastanza freddo qui dalle parti di Minanello, vi faccio vedere ancora un po' di neve che è ancora presente nei pressi del centro sportivo rossonero per cui il dilemma era facciamo la chiacchierata coperti in auto oppure allo scoperto con il cartello di località al quale molti di voi tengono nelle vigili delle partite ma col berrettone e evidentemente ho preferito accontentare voi con il cartello di località scaramantico e il berrettone che non è bellissimo da vedersi ma questo anche senza berretto passa il convento. Milano Juventus e Vigili, abbiamo appena sentito il nostro allenatore Stefano Pioli, ho avuto modo di sentire all'inizio della conferenza anche le dichiarazioni di Andrea Pirlo che ha parlato degli altri esami fatti sui giocatori della Juventus dopo la positività di Alessandro, insomma l'augurio vero che facciamo a noi e che facciamo a tutti gli avversari sempre è di giocare con la miglior formazione possibile, la miglior formazione possibile covid free evidentemente, naturalmente vedremo quello che accadrà, ma girano delle indiscrezioni sui social ma in ogni caso tutte le grandi squadre sanno fare senza i loro migliori giocatori, lo stiamo facendo noi, a maggior ragione è in grado di farlo la Juventus. Milano Juventus ha un grande spazio anche su OneFootball, è un grande portale, un sito molto importante a livello nazionale e internazionale, OneFootball vi aspetta e vi aspetta anche la app di OneFootball, è gratuita, la potete scaricare dalla descrizione, la app di OneFootball di questo video. Sia Stefano Pioli che Andrea Piro hanno fatto due dichiarazioni gemelle, Milano Juventus non è una partita decisiva, è chiaro che sia così, non è una partita decisiva perché non esistono partite decisive nel mese di gennaio e nel calendario normale la sedicesima giornata si gioca poi a dicembre, non a gennaio, per cui in questo momento della stagione non esistono partite decisive, ha ragione in questo senso l'allenatore del Milan, ha ragione in questo senso l'allenatore della Juventus. Però se c'è una partita nella quale l'esamino, non dobbiamo superarlo noi, ma i nostri avversari è questa, cioè la Juventus fino ad oggi in campionato con le grandi ha pareggiato con la Roma, ha pareggiato con l'Atalanta e ha pareggiato con la Lazio, non ha giocato con il Napoli, non ha giocato ancora con Milan domani e poi lo farà con l'Inter sempre nel corso del mese di gennaio. E' altrettanto vero però che quando doveva giocare veramente una partita importante come quella di Barcellona, la giocata era stravinta, quindi la Juventus si trova sempre a suo agio nelle grandi partite e nei grandi momenti. Noi non dobbiamo pensare alla Juventus che ha 10 punti in meno del Milan, a parte che i 10 potrebbero diventare 7 se la Juventus battesse il Napoli, noi dobbiamo pensare alla Juventus che non fallisce mai gli appuntamenti che contano. E dobbiamo anche pensare, poi qualcuno di voi mi accuserà che metto le mani avanti, per carità ogni volta che parliamo siamo passibili di un'accusa e di un parere contrario non c'è nessun problema, ma a luglio quando abbiamo vinto contro la Juventus avevamo la formazione titolare, noi domani sera non avremo la formazione titolare, perché manca evidentemente Ben Nasser, perché manca Zlatan Ibrahimovic, perché manca Salem Ekers, perché manca Gabbia, ne mancano i giocatori al Milan per essere la squadra titolare. E quindi bisogna fare i conti con i giocatori che abbiamo, con le scelte che farà Stefano Pioli e bisogna fare una partita intelligente, una partita che tenga conto anche e soprattutto della forza dell'avversario. Non vuole sannaturarsi, Stefano Pioli lo ha detto, noi dobbiamo pensare a giocare il nostro calcio, non dobbiamo pensare al pareggio, perché pensare al pareggio è la strada migliore poi per fare il risultato ancora più negativo, che è appunto la sconfitta. Quindi il Milan deve fare la sua di partita come sempre tenendo conto del fatto che deve fare un certo tipo di lavoro perché gioca contro una squadra molto molto forte, indipendentemente da chi scenderà in campo. La Juventus resta molto molto forte. Sugli altri punti di questa partita il nostro allenatore è stato molto chiaro, oggi ci sono stati nei suoi confronti dei complimenti molto belli da parte della Gazzetta dello Sport, ho letto un'editoriale di Alberto Cerruti in cui si parla dello stile con cui Stefano Pioli accetta le situazioni del campo, le situazioni arbitrali e il riferimento a Gaetano Scirea apparso in questo articolo per la sobrietà, per la lucidità e la calma in pubblico ha inorgoglito Stefano Pioli che ha dentro il suo cuore e nella sua memoria un concetto altissimo di Gaetano Scirea, che è stato suo leader e suo compagno di squadra nella Juventus degli anni Ottanta, la Juventus che faceva le grandi finali e che vinceva grandi trofei. Noi, è chiaro che non voglio sottrarmi al fatto che ci sia anche il Milan in questa partitissima di San Siro con la Juventus, però il refrain del Milan che deve superare l'ennesima prova, del Milan che deve dimostrare, del Milan che è scrutato da tutti per capire quando cade o quando non cade, ecco, c'è un po' meno in questa partita perché questa è una partita che può orientare molto per la Juventus, molto più che per il Milan, chiaro, se il Milan dovesse perdere male poi sarebbe dura raccogliere i cocci, però questa è una squadra, questa è una società, questa è un gruppo capace di non drammatizzare, dovesse esserci una sconfitta dopo aver dato tutto, dovesse esserci un pareggio, dovesse esserci una nostra vittoria invece cambierebbero di molto le cose perché la Juventus deve vincere, la Juventus deve vincere, noi non dobbiamo pareggiare, non dobbiamo pensare al pareggio, ma se c'è una squadra che ha bisogno di rientrare subito dando un messaggio importante al campionato, questa è la Juventus, quindi che cosa vuol dire? Non è che mi lavo le mani dicendo la pressione è tutta sulla Juve, no, la pressione quando c'è un Milan-Juventus è sempre su tutte e due, quindi anche su di noi, perché è chiaro che non puoi firmare per uscire con un pareggio con una sconfitta a cuor leggero da una partita così, devi fare di tutto per vincere e poi devi vedere se dare tutto, se dare tutto quello che hai, cosa che dobbiamo fare, che vogliamo fare, ti porta poi anche alla vittoria. Non è che la vigilia si risolve e diventa una vigilia normale se scarichiamo tutte le responsabilità e tutte le pressioni sulla Juventus, però è la Juventus che in questo momento ha meno 7 ed è la Juventus che deve fare di tutto per rientrare. Se la Juventus non rientra col Milan e non rientra con l'Inter a gennaio, poi la sua classifica si ridimensiona e poi la Juventus deve ricalibrarsi, deve ritararsi e bisognerà vedere come reagirà l'ambiente, come reagirà lo spogliatoio ad un'eventuale nuova dimensione. Quindi questa è un po' la posta in palio rivolta al futuro, soprattutto per la Juventus. Per noi, noi in questa stagione purtroppo parlavamo prima del Covid di Alessandro e spiace molto e di altre indiscrezioni, ma insomma finché sono indiscrezioni io personalmente non ne parlo. Anche noi con la Roma ci è mancato Donnarumma la mattina della partita, non so come sarebbe finita quella partita. Per il resto il Milan ha battuto l'Inter, ha battuto il Napoli e ha battuto la Lazio. Il Milan deve ancora giocare con l'Atalanta e con la Juventus. È chiaro che le cose sono andate bene, però le partite, queste partite con le grandi, sono sempre ruotate attorno a degli episodi. Il rigore tolto dal VAR all'Inter contro di noi, alcune l'espulsione di Bakayoko contro il Napoli, il gol nel finale di Teo Hernández dopo le sostituzioni di Milinkovic e di Immobile fatte da Inzaghi, la nostra assenza di Donnarumma contro la Roma, perché se c'è stato qualche episodio per noi favorevole in altre partite l'episodio negativo e sfavorevole contro la Roma è stata l'assenza di Donnarumma. Quindi anche domani ruotiamo anche noi attorno agli episodi, dobbiamo cercare di essere bravi di sfruttare gli episodi se si presentano, perché poi gli episodi ci sono stati in tanti anni ma non li abbiamo saputi sfruttare, oppure li abbiamo sfruttati ma non sono bastati. Quest'anno gli episodi abbiamo saputo sfruttarli, dobbiamo essere in grado di farlo anche domani con la grande attenzione, con la grande concentrazione, con la grande determinazione con cui il Milan vuole scendere in campo San Siro contro l'Euventus. Ciao a tutti, ci rivediamo, ci risentiamo domani dopo la gara da San Siro.